Ciao a tutti e ben ritrovati, allora quest'oggi faremo una lezione abbastanza semplice e andremo anche a fare un approfondimento sulla precedente. Allora oggi andremo a vedere come si aggiungono i commenti nel DAX, perché finché si tratta di formule semplice tutto va bene, ma quando iniziamo a fare cose un po' più complesse e abbiamo nomi anche artrusi sui campi che ci dà difficoltà a capire cosa stiamo facendo, i commenti appunto ci potranno salvare quando riprenderemo in mano il progetto più avanti. In più vedremo appunto come fare un passaggio in meno utilizzando le variabili e sfruttando meglio la parte del return. Allora andiamo sul file di esempio dell'ultima volta, andiamo sulle misure per esempio, dopo lo vediamo anche sui campi calcolati la stessa cosa, modifica, ecco qua, io qua ne ho già preparato una con i commenti, ci sono due modi per commentare le cose, e si fa lo stesso modo del SQL Server, quindi se commentate nel SQL Server la procedura è la stessa. Allora qui vedete ho fatto un trattino trattino, lo portiamo a capo per ora. Tutto quello che c'è dopo il meno meno, ok, trattino meno, trattino meno, doppio, diventa un commento, difatti vedete che diventa di color blu, verde, verde, acqua forse. E quindi quello che io scrivo qua diventa un commento, non viene letto dalla formula, però appunto mi dà un aiuto a capire che cosa sto facendo. Se vado a capo e scrivo, torno a riscrivere la formula, ok. Se quindi voglio andare a fare un commento lungo, ad esempio questo, vedete che è un po' lunghino, e voglio andare anche a capo, si usa lo slash verso destra e l'asterisco per aprire il commento. L'asterisco e lo slash verso destra per chiuderlo, quindi tutto quello che sta all'interno di questi parametri, vedete, diventa un commento, rimane dello stesso colore. Ovviamente, anche se io riporto all'interno dello slash, del parametro, la formula, anche quella diventa un commento. Ok, e anche qua vedete, ho messo un altro commento. Bisogna fare attenzione a una cosa con i commenti. Quando andiamo sulle misure, ma anche sui campi calcolati, ok, se io questo commento lo metto qua su, intestata, subito dopo l'uguale, purtroppo me lo cancella. Adesso io vi faccio vedere, premo l'ok, e dopo l'uguale lui si aspetta sempre l'inizio con una formula, non mi permette di mettere un commento. Per quello che questo commento l'avevo messo in linea con questa formula qua, l'avevo messo qua così. Magari lo lasciamo, perché tanto quello sopra sparisce. Vedete, l'ho messo qua in linea. Do l'ok, se io rientro, come vedete, è rimasto solo quello in linea, e quello superiore è sparito. Quindi fate attenzione, perché magari vi perdete il commento. Ok, potete metterli in linea, potete metterli sopra, sapete che dopo il trattino diventa sempre un commento. Se faccio il trattino qua, vedete, questo diventa un commento da qui in poi, ok? Ovviamente una cosa che avevamo già accennato, potete mettere anche una descrizione della formula di che cosa fa, la potete mettere qua in modo generico di che cosa fa questa formula, però se dovete commentare ogni singolo passaggio perché avete qualcosa di complesso, questa è la metodologia. Andiamo a vedere un po' su PowerPivot, quindi andiamo in gestisci, anche qua vedete la stessa cosa. Adesso io qua non ho un campo calcolato, ma è uguale, e quindi quando noi premiamo ad esempio sulla misura o sul campo calcolato che è qua, ad esempio facciamo così, mettiamo la formula e dopo si fa altinvio per andare a capo, perché nelle misure basta premere invio, ma se siamo in un campo calcolato bisogna fare altinvio per andare a capo, quindi trattino trattino e qua diventa tutto un commento. Piuttosto altinvio, slash asterisco, scrivo, asterisco slash, ok? Questo per i campi calcolati. Facciamo un ulteriore approfondimento, anche qua ovviamente come sulle misure. Adesso questa è la stessa misura che vedevamo fuori, però la stiamo modificando da PowerPivot. Possiamo fare lo zoom anche qui, ecco qua. Allora vediamo un attimino un approfondimento sulle variabili. Allora vedete, io qua faccio praticamente altinvio, Allora qua su PowerPivot si definisce appunto il nome della mia variabile, due punti uguale, che è diverso da come si fa con le misure. Io preferisco lavorare fuori che è più comodo. E poi su che tabella viene definita lo capisci in automatico perché la state definendo in questa tabella qua. Allora, quindi qua metto la variabile, il mio litign numerator, qua faccio la mia formula, il mio commento, qua faccio un altro commento, qua faccio un'altra formula. E poi gli dico, ritornami il risultato di questa variabile. Allora, se io voglio semplificare questo passaggio qua, io il return non per forza devo mettere sempre una variabile, io posso metterci anche una formula. Quindi se volessi semplificare questa cosa qua, ok, potrei prendere questa cosa, tac, e la metto qui. E questo lo tiro via. Magari facciamo così. Ecco qua. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto il return del litign numerator, che è questa variabile, diviso la somma della quantità. Ok? È la stessa identica cosa. Praticamente nel return io o definisco il risultato di una variabile, oppure ci metto proprio una formula finale che poi utilizza le variabili che ho creato sopra. Ovviamente premendo invio, si crea, e qua adesso c'è il trattino giallo, perché abbiamo fatto questa che è sbagliata. Quindi andando giù vedete che comunque funziona ugualmente. Ok? Se andiamo anche nelle misure, giusto per vedere come è cambiata anche qua, vedete? Abbiamo cambiato dentro, è cambiata anche qua. E anche qua abbiamo semplificato il tutto. Quello che vi dicevo prima della tabella 1, quando creiamo una misura, dobbiamo sempre definire su che tabella la definiamo, perché in questo pannellino lui non sa su che tabella stiamo lavorando, il nome della misura, che all'interno del PowerPivot invece diventa automatico. Bene, con questa lezione è tutto, vi saluto e alla prossima. Ciao!